Con un piacevole concerto dedicato a San Francesco si sono aperte le manifestazioni che la Misericordia di Borgo Ammozzano dedica alle festività natalizie, che riguardano anche un concorso di presepi dal titolo Presepiamoci e tante altre iniziative culturali e di solidarietà. Il concerto apre una serie di iniziative che quest'anno saranno più numerose degli anni precedenti perché è entrata in campo anche la nostra officina della solidarietà che farà diverse iniziative. Il concerto, che si è svolto all'interno della chiesa di San Francesco, ha visto la partecipazione del coro mosaico di Lucca di alcuni cantanti solisti e di ottimi musicisti. La direzione artistica è stata affidata all'ottimo maestro Silvano Pieruccini che ha unito testi di San Francesco tratti dal Cantico delle Creature a musiche inedite a firma di Antonio Frassinelli conosciuto soprattutto come storico che risponde al nome di Antonio Romiti. Quelle cose che vengono in un certo senso naturalmente perché ci si appassiona, si appassiona dei temi, dei personaggi e poi è naturale che qualcuno si riferisca a questi personaggi e credo che riferirsi a San Francesco sia la cosa più normale per tutti. Gli arrangiamenti e l'adattamento musicale sono stati curati dal maestro Guido Masin. Il spettacolo sono soddisfattissimo di come è riuscito perché è ben equilibrato tra il testo parlato in prosa ritmica e il testo cantato come l'ha pensato il professore Romiti Frassinelli e poi come l'ho anche riarrangiato io per coro, coro e strumenti e quindi direi che è una buona riuscita speriamo di poterlo ripresentare prossimamente, spero presto.